Parlavamo del mare, le sue bonacce e le tempeste, le notti buie sull'oceano, delle onde che brillano tremolando al sole, ma soprattutto delle balene e delle fochi e delle renne che si scaldano al tepore dei merigi sulle coste del nord, poi delle aquile e dei gabbiani e di quegli altri uccelli e mentre lui parlava... Elida, te lo avevo detto che sarei venuto a prenderti. Che strano, mi sembrava che tra quell'uomo e quegli esseri ci fosse una qualche parentela. Addio, signora del mare.